Piero Dorazio, direttore generale del Ponte Vomano, un ritorno nelle fila giallonere. Direttore, allora che stagione sarà quella del Ponte Vomano, valorizzazione dei giovani e salvezza tranquilla? Beh sì, siamo venuti fuori da un girone di ritorno straordinario, anche per merito della società, dell'allenatore, di giocatori importanti che magari erano difficili da poter confermare, quindi abbiamo scelto una linea più giovane, sperando che ci possa dare delle soddisfazioni comunque, chiaramente nell'ottica di non soffrire troppo. La squadra, ad esclusione del portiere di Paolo Di Francesco, è un under 24, però riteniamo, ciò nonostante di aver allestito un buon organico, che chiaramente è suscettibile di qualche criticità in termini di esperienza, ma anche con prospettive di crescita, secondo noi, interessanti. In bocca al lupo. Crepi.